Un altro passo in avanti, il Nardò entra di diritto nella lotta per la vittoria finale del campionato del Girone H. Approfittando dei risultati degli altri campi, Vetta a soli tre punti di distanza e terzo posto, condiviso con il team Altamura dopo la vittoria per 2-1 al Giovanni Paolo II contro il Matera dell'ex Salvatore Ciullo nella prima parte della passata stagione sulla panchina dei Neretini. Prova solida per i padroni di casa che partono col piede sull'acceleratore, Ferreira conclude al volo in porta, Pozzer si distende e mette in angolo. Sempre Ferreira, poco dopo, con il mancino, manda alto di un nulla. Un buon inizio per il Nardò, un inizio shock invece per il Matera che al 33esimo resta in 10 uomini. Fallo di Dubaz su Fedel, secondo giallo, giocatore che si dispera ma non protesta. Come una sentenza, la superiorità numerica porta il Nardò al vantaggio al minuto 41. Addae, da lontanissimo, prova la gran botta e trova una rete spettacolare che vale l'1-0. Neretini in festa e prima dell'intervallo Ciracì potrebbe già raddoppiare. Pescato in aria da Montinaro, Pozzer esce coi tempi giusti e conquista la sfera. Si va al riposo con il Nardò avanti 1-0. Nella ripresa i ragazzi di Mister Ragno vogliono chiudere i conti. De Giorgi ha una doppia chance ma prima sbatte su Pozzer, poi conclude sull'esterno della rete. Ciracì sistema la palla sul destro e calcia, palla che sfiora il palo. C'è spazio anche per le proteste in casa Nardò sul contatto in aria. Adel Matera tra Fedel e Ancora per l'arbitro. È tutto regolare al 63esimo. Poi l'inaspettato pareggio dei Lucani. Calcio d'angolo, Piccioni più lesto di tutti sul primo palo, mette la sfera in rete e 1-1. Un pareggio che tuttavia dura davvero poco perché al 72esimo Montinaro crossa in aria perfettamente per la testa di D'Ambros, palla sul palo e poi in rete e 2-1 in un Giovanni Paolo II in festa. Nardò che ritrova il vantaggio ma non vuole tirare remi in barca. Nel finale infatti Gionai in contropiede vince il duello con Jacarino. Davanti a sé c'è solo Pozzer, dribbling e palla calciata. Sul fondo grande chance non sfruttata. Sempre Gionai prima del triplice fischio ci riprova, palla alta. Finisce così, Nardò che porta a casa altri tre punti e nel prossimo turno sarà di scena a Fasano. Si interrompe a 11 la striscia positiva del Matera iniziata il 23 ottobre scorso. La prima sconfitta della gestione Ciullo. Domenica prossima i Lucani ospiteranno il Gladiator.